Salve a tutti, qui Antonio Cianci, raccata film per voi, in compagnia di... presentatevi... Rischino 86 Bastardi senza cinema, ovvero lo Zio Game e Mr. White E io sono la Vero Eccoci qua, abbiamo appena visionato Batman v Superman nel multisala Orfeo a Milano Precisamente nella sala rossa, una sala con 720 posti a sedere, 150 metri quadrati di schermo Quindi una cosa veramente immensa e proiettore digitale Cristi 4K e impianto sonoro Dolby Digital 7.1 con 27.600 watt di potenza Quindi è stata un'esperienza fuori dal comune e possiamo passare adesso alla recensione del film Ora parliamo del film Il cinema è buono, è di ottima fattura La sala rossa Cinema da 10 lode, il film direi proprio di no Mi consiglio di visionare i blockbuster O di me non ci tendiamo a ringraziare l'amministrazione per averci concesso Sì, l'amministrazione e il gestore che ci ha concesso questa opportunità di recensire qua Abbiamo anche uno sfondo direi mica male Molto a tema Molto a tema Ebbene, possiamo adesso tirare giù i pareri E qual è la cosa che... L'ultimo lavoro faticoso di Zed Neider Un bravo mestirante Non ne siamo del tutto convinti di bastare senza cinema Però insomma ha tirato fuori questo film che in realtà da un punto di vista prettamente narrativo Poteva avere anche delle cose interessanti Soprattutto il soggetto Soprattutto come abbiamo già detto Prima del video i primi dieci minuti di film Abbiamo un incipit abbastanza interessante Con un punto di vista narrativo abbastanza interessante Che però purtroppo sia Terrio e Goyer Che Snyder purtroppo buttano in cacciara dopo poco tempo Sprecando quella che era un'opportunità narrativa non indifferente in questo senso Sì, si capisce che comunque il film è diviso in due parti ben distinte Solo che doveva dare un po' più di coerenza di fondo Uniformità comunque alla narrazione Stasse iniziatura un po' sgangherata che si dovrebbe rifare a Nolan Sì, perché è veramente Con il montaggio alternato Parte bellissimo Cioè dico, qui partendo dall'inizio Mi aspettavo peggio dall'inizio L'inizio invece mi ha introdotto molto bene Sì, ripetiamo la morte dei genitori di Bruce Wayne L'abbiamo visto tante volte Però l'ha fatto in modo particolare Cioè era tutto intrecciato Sì, anche perché è un'introduzione funzionale Al caratterizzare dei personaggi Esatto La cosa interessante è che ti pone davanti Innanzitutto la caratterizzazione dei personaggi Quelle che sono le motivazioni Che poi portano i personaggi ad agire come agiscono L'unico problema è che probabilmente nel film Neanche si perde, si vede, si percepisce A discapito di quanto dice il titolo Quel conflitto che però arriverà forse Una posfera conflittuale che arriverà forse un po' troppo tardi All'interno del film Quindi una narrativa forse un po' sbilanciata Sì, è come se all'inizio fosse Bruce Wayne Contro Clark Kent E poi dopo si trasforma in Batman contro Superman E Piscay che ne dici delle tematiche Che sono molto interessanti Però non sfruttate appieno Per imbastire un tema molto Un tono del film molto cupo Secondo me l'idea di base Poteva anche essere ottima Cioè proprio questi due personaggi Che rappresentavano due ideologie di giustizia Come dice poi il sottotitolo del film Quindi l'alba della giustizia Cioè tradotto proprio l'italiano E in mezzo a queste due ideologie Appunto si sarebbe dovuto infilare Lex Luthor Che avrebbe in qualche modo Rotto le uova nel paniere Ai due supereroi E il problema è che Se appunto l'idea di base Poteva essere davvero ottima Per costruirci dietro Una storia anche solida Con dei personaggi solidi Eccetera eccetera Non è così insomma Cioè qualsiasi cosa Sembra buttata lì Tanto per dire Abbiamo i soldi Abbiamo la tecnologia Allora usiamoli e via Si mettono anche in dubbio I codici morali Di queste due icone Tra le più famose Nel panorama del cinecomic moderno Però comunque anche lì È una tematica che viene rapazzonata Che non viene comunque valorizzata appiena Ci devo dire una cosa Comunque penso in incicca In questo film Ovvero possiamo fare un confronto Con l'album della film Abbiamo due simboli Nel frumento americano Che esistono da molti decenni E vengono sfruttati in un modulo Diciamo molto superficiale Sfruttando il valore Che dovrebbe cenarsi Dietro il proprio simbolo Quindi abbiamo Batman Il guerriero della morte Il supernoi che si nasconde Con un cubistrello Dell'oscurità E combattere con il crimine E Superman che la presenta Quindi il super uomo L'essere indolverabile Vicino alla dignità Allo stadio divino E tuttavia in questo scontro Abbiamo anche a fare Come due personaggi piatti Piatti come due figurine Indimensionali Possiamo prendere benissimo Lo stemma di Batman Lo stemma di Superman Incollarli Su un album delle figurine Il film è patinato E' patinato come un album Sicuramente Come una rivista di moda E abbiamo il film E' un pasticcio Ed effettivamente Proprio Sono parecchi i problemi Come abbiamo già detto C'è una sceneggiatura Che dopo dieci minuti Si ferma Si ferma nella scrittura Si ferma nello sviluppo E butta dentro Eventi molto casuali Che rendono la narrazione Confusionaria Che rendono comunque Il film molto difficile Da seguire Soprattutto Visto e considerata La grande lunghezza Del film Che sono due ore e mezza Quindi Già per un cinefumetto Due ore e mezza Sono tantissime Dovrebbe esserci anche La director scat Quindi per arrivare a due ore Infatti ho notato Che ci sono stati dettagli Non indifferenti Ed effettivamente Far durare due ore e mezza Un cinefumetto È sicuramente azzardato Può essere in un certo senso Anche Magari ambizioso Un problema è che Sono 150 minuti Di tergiversare Di perdere tempo Come giustamente Vi hai detto anche E tirare attorno A una tematica Senza mai Farla vedere Sfruttarla appiena O narrarla Per immagini Come giustamente Dovrebbe fare il cine Sulla scia di Avengers di Joe Bulton Che in quanto a minutaggio Ancora Non scherza Che però Rispetto invece di Batman vs Super Non essendo comunque C'era dietro Joe Suedon Non è tanto bello Forse quanto gli Avengers Però comunque Aveva dalla sua Una bella personalità Una buona scrittura Dei personaggi Perché Joe Suedon Rimane un ottimo regista E anche bravo A scrivere Questo genere di film Perché è molto bravo A gestire il corale Cosa che qui Purtroppo non succede Non c'è nessun tipo Di chimica Tra i personaggi Il cast In parte è anche buono Perché comunque Utilizzare Ben Affleck Nella parte di Bruce Wayne Barbar Quello per soprattutto Quello tutti Tutti sospettavano Il peggio Da Ben Affleck Come Batman In realtà Secondo me ci stava Soprattutto Rendeva credibile Non solo I personaggi di Batman Ma anche I personaggi di Bruce Wayne Molto più Di quanto avrei fatto Christian Bale Non me lo vedevo Qui tanto Invece Ben Affleck È riuscito Ad avere Entrambi I personaggi Comunque In mano Per la stazza La fisionomia Anche la presenza Ma poi dobbiamo dire Che il personaggio di Batman Cambia completamente Cioè Batman Uccide le persone No infatti Che non è una cosa Da sottovalutare È un cambiamento E poi non giustificato Che scavino alcuni canoni Questo può anche essere Un cambiamento Accennato Non giustificato Ma accennato Solo con l'inquadratura Del costume Di quello che dovrebbe essere Robin Sì Però Non si sa Cosa è successo Robin Non so se è spoiler Ma dovrebbe sì Essere Beh non è spoiler Perché non c'è Infatti no È citato poi Da una battuta sempre Di Batman Un avvenimento passato Del futuro Del passato Vabbè Ci sono proprio Grossi anche buchi Di sceneggiatura Sì diciamo che Noi siamo Siamo stati abituati Anche a delle volte Che magari Con delle sceneggiature Però non scritte benissimo Però il regista Bene o male Ci sa fare Non so Mi vede ovviamente Un Brian De Palma Che delle volte C'ha dei soggetti Delle sceneggiature Che sono un po' così Ma Lui ci sa fare Eh bravo Ma sì Ma perché riesce Magari con il suo stile Registico a risollevare Quella che è magari Una scrittura Questa è poco interessante Qui nemmeno la regia Si sarà C'è qua proprio Zero Si parlava prima Del montaggio alternato All'inizio Ma ci sono dei tagli Che sembrano Fatti davvero Con delle catane Perché Sì schermo nero E si cambia il personaggio Non c'è la minima fluidità Non c'è nulla Ma perché neanche nella gestione Dei tempi narrativi Abbiamo poco Nel gestione dei tempi narrativi Poco equilibrato La gestione dei personaggi È pessima È pessima Molto attalenante Molto attalenante Però puntano tutto su Il Lex Luthor L'ho interpretato da Eisenberg Per quanto mi riguarda Poi Il dono è fantastico Sì Assolutamente Eisberg ha avuto una crescita Negli ultimi dieci anni Non indifferente Perché è partito con le classiche Commedie americane Poi è arrivato Diciamo a fare Anche fare con dei più drammatici Social network Ha avuto una crescita Non indifferente Ad essere un attore Molto commettente Anche se Personalmente A me è vero Non è particolarmente Piaciuto come personaggio Perché è troppo macchiettistico Troppo Sopra le righe Sì Ma soprattutto Non mi immaginerei L'ex Luthor Così sopra le righe Così tutto Ah allora Mi immagino più Un cattivo Più fumettivo Più Come un cattivo Da Batman Sì Più sul filolo più Allora Per come è Nell'immaginario comune Dovrebbe essere più simile A Gene Hackman Oppure A un attore Che l'ha interpretato In Superman In Batman Kevin Spacey Fantastic La casa Non puoi sbagliare In Seven In realtà In realtà Qui abbiamo A che fare Secondo me Con un incrocio Tra Lex Luthor In una versione Molto sopra le righe E il Joker Abbiamo due caratteri Completamente diversi Uniti in un unico personaggio Mettiamo Un attore bravo Riesce a portare a termine Il suo lavoro In maniera dignitosa Rispetto ai suoi colleghi Di grande Comune in Africa Che si salva Ma comunque Un'interpretazione Comunque Però sicuramente Abbiamo altri Migliori Valuthor Assolutamente Valuthor Visto come Un certo di figura Visto come un master plan Cioè il maestro dei piani No? Quello vediamo Sotto Poi lì Ci si presenta L'ex Luthor Mentre lui Gioca a basket Nel suo Nel suo ufficio Diciamo Quasi un'area Da ragazzetto viziato Quasi un'area Da ragazzetto viziato Quando in realtà Lo sappiamo Lo conosciamo Come è una personalità Molto più caota Molto più strategica E qui insomma Era giovane Anche come attore Per interpretare Sembra lo zingaro Di Jack C'è un po' Il film di Figurare Ragazzi accennato Alla fotografia Mamma mia Detti Atroce È una cosa Pessima È davvero Laccata Come sono Snyder Sa fare Mamma mia Con una composizione Dell'immagine Pessima Poi si vede Che dietro C'è lo schermo Il pandello verde E dietro la telecamera C'è invece Il ventilatore Una CGI fastidiosa Ci vuole più vento Una CGI A dir poco Fastidiosa Ed invasiva Perché è veramente Un'ora di giustizia Allo scenario Che si 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 vedeva Si vedeva Chiaramente I momenti In cui c'era Computer grafica I momenti In cui C'erano cose vere Ed è Distraeva Molto dalla visione Del film Da una visione D'insieme Molto coerente E quindi è un peccato Anche quello Una gestione Anche brutta Dei soldi Che hanno avuto A disposizione Una CGI davvero Pessima Che purtroppo Fa scadere Anche nella banalità Nella finzione Più pura Non ci coinvolge Perché comunque Una CGI brutta In un film Che usa Esponenzialmente Appunto La CGI Purtroppo Smorza Quello che è Il coinvolgimento Da parte Dello spettatore All'interno della pellicola Ed è Un grosso peccato In questo senso E' una cosa Non sprecata A proposito Dello sprecare soldi Quella roba La Mad Max Strana Ah si La sequenza Dream sequence Signori miei Delle cose strane A proposito Di Chiacchierare Allora Quanto entriamo In spoiler Ragazzi Stiamo parlando Del film Se bisogna spoilerare Per parlare Di alcuni punti chiave Ragazzi Siete avvisati Quindi Perciò Ci saranno Adesso Non abbiamo detto nulla Fino adesso Però Metto le mani avanti Dicendo che Molto probabilmente Ci saranno spoiler Perciò O guardate il film O non vi interessa O fate come volete Siate avvisati Comunque Quindi che tira Mad Max Stavo dicendo Atmosfere che ricordano Mad Max In una sequenza Quanto? No Cinque minuti Dieci Non so Quanto era lunga? Quella era veramente la Durava tanto Poi finiva E poi ricominciava Ma poi finiva Stava sveglio Troppo protratta E troppo poco essenziale E rompio la sequenza E rompio la sequenza E poi Lo stile di combattimento Del personaggio Posso dire C'è uno spoiler Di Batman Insomma Abbiamo però detto Sì è che io Tendo sempre a partenermi No no vai libero Non preoccupare Lo stile di combattimento Di Batman Mi ricorda proprio Kenny il guerriero Cioè io ho visto Tutta la serie animale E quindi Ricordo Le movenze Sono identiche Manca solo La mossa Della polare E invece No Per come utilizza Tutti i gadget A disposizione Anche il Batwing Batmobile Il rampino Mi ricorda la serie Arkham Videomudica Sì è vero Non è stata Quella comunque carina Dopo Dopo La macchina Utilizzata Nei film di nuovo Esatto Cosa che è Mezzo caro armato Non so Torniamo di nuovo Alle dimensioni Classiche Del Batmobile Quella è una cosa che Non sapevo Quanto di Batman di Nolan Ci fosse In questo film Perché c'erano Molti elementi Che ricordavano Il Batman Sempre per le atmosfere E un Batman Un po' Cerchio battista Però cambia l'attore Capito Perciò anche quello Ero lì ok Devo aspettarmi Quello che è successo lì Però c'era Robin Forse Però Cioè non capivo Dove dover mettere Questo personaggio Esatto Perché è un Batman Cerchio battista Cercherà di renderlo Un po' dark Ma allo stesso tempo Di renderlo con un animo Molto action Molto meno legato Quelli che sono i codici Morali Di cui abbiamo parlato Poc'anzi E quindi si è cercato Un po' di mediare Cercare un po' di Mettere un Batman Nel mezzo Che non fosse troppo Simeo all'uno All'altro E ci può anche stare Solo che appunto La scrittura Non regge Non dà A questo Batman Una personalità Che va dal di fuori Dall'interpretazione attoriale Che magari dà Qualche sfumatore in più A una scrittura Che in realtà Non gli dà Quanto è importante Il personaggio di Lois Lane Qua in questo capitolo Talmente tanto Da Talmente tanto Da risultare fastidiosa È troppo In questo film Le vogliono far fare cose Che Sembra quasi Che sia stata La svolta di trama Talmente tanto Importante Da essere Al centro Di un Di un sogno Lì Questo Deus Ex Machina Buttato di a cazzo Perché è sempre bello Talmente tanto Importante Il personaggio di Lois Lane Che ha pronunciato Forzata In questo film C'erano Momenti In cui Perché È lì Perché Va a infugnarsi In questa zona Di guerra Anche lei Ha dei superpoteri Riesce a teletrasportarsi O Gukui Riesce a essere In mezzo Alle palle Sempre Questo è Super Me ne Wonder Woman Messi Sì Perché Non le hanno Fatta combattere Contro Emi Adam Si è criticata Nel vecchio film Nel stile La critico Anche adesso Perché Lois Lane Nascia È un personaggio Che ha stile Lei non riesce a dare Non lo rende Giustizia Non rende una durezza Del personaggio Non lo rende Un personaggio Carismatico Che carismatico Lei è veramente brava Lei sa fare cose Veramente Ma lei è intensissima E quindi è strano Che non sia riuscita Neanche lì Perché evidentemente Forse non aveva più voglia Neanche di recitare Ma anche il copione Non aiutava C'era un misto Di tutte queste situazioni Se ti danno Una sceneggiatura Sì 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 Innubiamente Situazioni improbate Ma parlando Di caratterizzazioni Dei personaggi Ed essendo in zona spoiler Ma vogliamo parlare Che del personaggio Di Wonder Woman Come si viene a scoprire Che lei è Wonder Woman Vabbè Non si sapeva Dai trailer Sì Guarda Ci avevamo preparato A questo Trailer Comunque Trailer Ci ha detto Ecco Potremmo fare anche Senza avvertenza Spoiler Perché I trailer Ci hanno già detto Tu Campagna di marketing Pessima Secondo trailer Ha rivelato Direi I punti salienti C'è tutto È una cosa sbagliatissima Non c'è quasi motivo Per andare a vedere il film Sapevo esattamente I punti E soprattutto La cosa peggiore Che me li aspettavo Perciò il film Mi è sembrato Ancora più lungo Di quello Che sarebbe stato Se non avessi visto Metti trailer E stessi scoprendo Sì anche perché A livello narrativo È forzatissimo È molto banale Ripete comunque Alcuni cliché Perché fa incetta Di cliché questo film Purtroppo Non riesce a avere Un minimo di originalità Davvero Prende elementi narrativi Da tutto Anche da No Dobbiamo capire comunque Una cosa I fiumenti Marvel Hanno una storia Molto lunga Quindi ci sono Tanti filoni Tante storie Tante collezioni Quindi Diciamo che Quando si va A creare un film Tratto da I fiumenti Marvel O della DC Comics In questo caso Io diciamo Li a corpo Li unisco Perché hanno Lo stesso valore Per me Si cerca comunque Di soddisfare Un po' tutti Perché c'è chi ama Quella serie Chi ama Quell'altra serie Quindi Si deve un po' Mediare Questa è un po' È una difficoltà Sicuramente Per lo sceneggiatore Per il regista Tuttavia A questo punto Tanto vale fare Una storia Ex novo Come ha fatto Un regista Non molto caro Un regista asiatico Che si chiama Katsuki Kheria Katsuki Kheria Ha preso La serie animata Nel anni 70 L'ha trasformata In un film Con i suoi limiti I limiti di budget E quello che vuoi Ma molto più belle Di questo film Ma stai parlando anche di Deadpool Con i suoi limiti di budget Riuscita a tornare Una storia Tira da stori Così a sé È un film Che senza sé Senza ma Farà sempre simpatia Si È una personalità Carismatico Però dietro questo personaggio Non c'è più su altro Comunque fa il suo dovere Si Qua In questo film Batman contro Superman Si mette in mezzo Filosofia Teologia L'entrattimento Diciamo che I suoi limiti di supereroi Sono intrattenimento Deadpool Intrattiene Quello è l'importante Ma si cerca di fare Demagogia con i ragazzini Si Si Ragazzi si fa Demagogia con i ragazzini Perché Prendi come target I ragazzini Tra i 10 ai 20 anni E diciamo Li fai vedere Che sei uno Abbastanza culturato Che sa spiegare La filosofia Kansiana E quindi C'è Il ragazzino di 17 anni Di 16 anni Ma ce ne è soltanto Manca i contenuti Invece no Manca lo sviluppo C'è troppa carne al fuoco Ma nulla di tutto ciò Viene sfruttato a dovere Questo è essenzialmente Il problema Mi è messo troppo in campo E poco sviluppato Perché lo sviluppo è quello che manca Perché se ci fosse stato Uno sviluppo più solido A livello narrativo Una sceneggiatura Scritta meglio Con un filone logico molto migliore Soprattutto anche una regia Che tenesse testa In questo senso Ai personaggi E alla loro rappresentazione Ci saremmo trovati davanti Non forse un capolavoro Ma sicuramente un po' Un panoramica Scaffola Ragazzi Si è limitato però con il zoom Stavolta Si no La telecamera tremava di meno Però quei pochi zoom che c'erano Però Si si è presi tutti Snyder ha curato il parking Su Adesso C'errema di meno Quei zoom Come se fossero Delle coltellate Però Però i rallent Guardatemi Però nelle sequenze uniriche Rallent c'è sempre Perché è sempre quella firma Per me La zoomata per eccellenza C'era una volta il West L'uomo armonica Charles Bronson Allora C'è zoomata Poi Frank Altra zoomata Poi di un'altra Quindi sono le zoomate Nonostante Stiamo parlando leone Ipercinetici Nel caso lo sapevo Snyder secondo me Non ha studiato leone Quindi Ma Non ha studiato il cinema Ma Non ha studiato il cinema Esatto Guardate lì Ok Io volevo dire una roba Tornando al discorso Il primo Di Wonder Woman Perché secondo me È stata Poi magari questa cosa Ma che dico Può generare un'altra discussione Wonder Woman È stata una Buona pubblicità Nel senso furba Ma un po' Subidola Diciamo Perché Perché già nel terzo Ti sbattevano davanti Che ci sarebbe stato Questo personaggio Nel film Poi uno va a vedere Il film E dice Ah bene Adesso vediamo Quando arriva Sul personaggio Lo aspetti Lo aspetti Lo aspetti Quando arriva Quando si capisce Che lei è Wonder Woman Cosa fanno loro Ti mettono dentro La pubblicità Della Justice League Perché è quello Che è stato Il sottotitolo È Dono Justice Ma Dono Justice È Alba Della Justice League Non Giustizia Ma Justice League Già dal titolo Ti fa capire Ma poi comunque C'è anche un problema Di importanza A livello narrativo Di Wonder Woman Il film Che fino a tre quarti Del film Non si rivela Come tal Assolutamente Non conosco Wonder Woman Conosco solo Di nome Di fama Ma non solo La sua storia Mi ha dato Che è scontato Tutto È vero Ma tu sapevo Che siete Appassionato Di più Ma io Ne uccisi Tanti Di miei amici Come se ne avessero Fatti tanti Di film Su Wonder Woman Ricordava Molto più Catwoman Cioè io Che non conosco Wonder Woman Ricordava molto Quei personaggi Catwoman Soprattutto all'inizio Pensava più Al film C'era 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 E poi Ah no Te l'ho lasciata Nello sportellino Della macchina Che come Che poteria Wonder Woman E qui torniamo Un po' Al dramma Di fondo La scrittura La scrittura È quello che ha reso Interessante La trilogia Di Nolan E soprattutto Il secondo film E la scrittura Che ha fatto la differenza Perché senza Quella sceneggiatura Vedere il film Ha avuto Lo stesso valore E ricordiamo che Guarda Aveva scritto Il primo Di questi C'era Niente Di adrenalinico Non c'è niente Che ti fa Non montare La tensione E questo è il problema C'è È un film Molto veloce Ma non crea Pathos Crea Alcun tipo Di tensione Veloce In un certo senso Veloce Ipercimentico Ma non crea Pathos Questo è il problema E quando non riesci A unire bene Le cose Gli hai sbagliato Alla base Quindi è questo Il problema fondamentale Diceva veloce Nel senso Che quando compri Individuo D'abbiamo Alla velocità Andiamo Andiamo allo scontro Di Batman Contro Superman Il titolo Comunque è Batman contro Superman Perciò parliamo Di Batman Contro Superman Il titolo Si capisce Allora Batman contro Superman E poi Dawn of Justice Quindi già si cambia dal titolo Che il film doveva essere diviso In the party Cioè Dovevamo arrivare A tanto chiacchierato Scontro Batman contro Superman Per poi risolverlo Per poi risolverlo In quanti minuti No minuti 10 minuti Cioè la battaglia Secondo me Sto parlando dell'incontro Lo stesso L'incontro Non è della scontra In effetti Sui 5-10 minuti 20 minuti 20 minuti Forse Fino alla rinascita Di Dawn of Justice Comunque Batman contro Superman 10 minuti No forse No 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 Forse si riferiscono Alla battaglia fra ideologie Quindi anche scontro Tra Wayne e Kent Wayne e Kent Si vedono una volta Tra di loro All'inizio Che abbiamo visto nel trailer Anche lì Tutto Anche lì Perciò si Ecco Il loro discorso Nel trailer È il discorso Cioè che c'è anche nel film Perciò quello Dura ancora Un scontro Di 4 minuti Si Perciò dai Tutto Un quarto d'ora Di Batman contro Superman Anche una risoluzione Molto frettolosa Nella storia Un'alleanza così Molto Buttata lì Per far finire Il film Per farlo concludere Per farlo portare D'antilogo Però cioè È paradossale Perché Il finale È velocissimo È buttata lì Mentre invece abbiamo Invece all'inizio Con che allungato L'inverosimile Per questo che diceva È una roba anche inutile Cioè proprio roba inutile La narrazione sbilanciata Non è velocata Ci sono Troppe digressioni E troppe poche Velocizzazioni Nella narrativa Ed è sbagliatissimo Lo sapete Un po' Poi Batman È poco determinato Deve salvare il mondo Deve lasciare L'erenità Per il mondo Per tutto il pianeta È il mio retaggio Dice È il mio retaggio E poi Gli basta dire Marta Cosa Cosa hai detto Cosa hai detto Forgo Ma conosci il suo nome Calmo E lì arriva Lois Da nulla E dice No no è sua mamma Lois Lois sì che salva E lei che salva il mondo Noi saranno altri Perché non poteva dirlo Superman No è mia mamma Ma non avrei avuto Lo sapere Io ci ho pensato Ma non la chiamiamo Salva mia madre E mi aspettano Ma magari Dicenono Devi salvare Marta E chissà Si sarà documentato Clark Kent Cosa è la sceneggiatura Cosa è il Clark Kent Che si è documentato Alla FI sui fumetti Secondo me è italiani Sono metà crittoniana Non riconosce Marta Come sua madre Ma in realtà La sua parte umana L'accetta E desidera Ma ci devi arrivare tu Ma questo Viene narrato nel film Poi un'altra cosa fondamentale Che è anche un po' Il problema principale del film È che il villain Non viene mai capito Chi è veramente il villain Cioè ci sono tutta Una serie di personaggi negativi Ma non riesci mai a capire Chi è il cattivo principale Clark Kent Sì però E quindi è lui che comanda tutto Ma viene molto suggerito Buratinando Sì È come il buratino Del film di Iron Man Quello del terzo Mandarino Il mandarino Il mandarino È uguale al mandarino Sì Quindi abbiamo Il personaggio Che assomiglia a Hulk Abbiamo L'ex Luthor Che incrocia un po' tutto E a doppia mandata È legata anche al mandarino Di controvista del ruolo Nella sceneggiatura E poi cosa abbiamo Come rimanano Beh Le scene copiate Da Nolan Quanto altro Sì 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 Nella prima parte Si ricalca proprio Quello stile Comunque è molto bella Molto bella La sequenza Della uccide dei genitori Perché Perché c'è il dettaglio Della collana di Ben Che è molto bella È una pinzata narrativa Interessante Si rifà un po' I primi minuti Di Sacred Punch Snyder Miracolosamente Riesce L'autocitazione Che è anche Magari Però ci sta Infatti Ne aveva un bel uso Ho detto Eh dal punto di vista Della regia Magari È cresciuto È migliorato E poi c'è con la terza Paraccia Che è No No Figura Eh qua ci cacciano Ma continuiamo in un'altra sala Sì 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 No ma comunque abbiamo detto Tutto quello che c'era da dire Sì 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 No ma comunque abbiamo detto tutto quello che c'era da dire No ma per principio non vediamo Esatto Ok perfetto Quindi detto questo direi che possiamo salutarci Qui finisce il nostro video Da Antonio Cernaciracatafil Pliskin86 Vero di Vero Zii E noi passati di Stata Cinema L'Ozio Gamer Di Sir White Ci vediamo Ad un prossimo video Ciao a tutti